Un saluto da Dottor Palmas e dal team di bioemulazione della bocca bionica. Lei è Vika e si occupa di realizzare i denti con le loro traslucenze e renderli fedeli a quella che è la natura. Liviu è il nostro progettista 3D, ricercatore da Londra, che ha realizzato quello che è il grafico, il progetto che poi viene tradotto in fisico da Dima, il nostro capotecnico che ha assemblato tutti i vari pezzi che ora ti mostro. Quella che vedi qua su questo tavolo è una struttura superior, una dentatura artificiale completamente su impianti dentali. È composta di diverse parti, come ora ti mostro. Questa è una forchetta, un articolatore che serve a simulare quelli che sono i movimenti della bocca di lateralità, di apertura, di chiusura. E questi che vedi qua di fianco sono i denti in zirconio che verranno montati nella bocca del paziente. Come vedi hanno dei fori all'interno, vengono posizionate le viti di connessione che permettono poi al tecnico di andare a stringere nella bocca del paziente, o meglio al dentista, quella che è l'articolazione e la dentatura artificiale nuova. Questa che vedi montata qua sull'articolatore che ho opportunamente aperto per mostrarti, è un'arcata superiore e una inferiore superior. Superior è una linea la più avanzata che c'è al mondo. Ogni singolo dente che vedi qua è stato progettato in 3D al computer. Questo ci permette negli anni di avere una libreria che mantiene in memoria per decenni quelle che sono le forme che in caso di rottura possono essere ristampate e riprodotte con altri materiali. Prima di andare a realizzare questi denti definitivi abbiamo realizzato un mock-up, ovvero abbiamo realizzato una prova tridimensionale in resina che serve per verificare se i volumi sono corretti. Successivamente abbiamo stampato quelli che sono i denti in 3 dimensioni in zirconio e ti mostro ora quello che è il peso di questi denti. Stiamo parlando di denti che hanno il peso di solamente 25, neanche 17 grammi, 22, 17 grammi. Sono dei pesi veramente leggeri all'interno della bocca. Queste sono le strutture invece in titanio. Ogni dente viene supportato da un pin ritentivo che permette ai denti di non dislocarsi durante la masticazione. Se io vado poi a posizionare i denti sopra al tavolato di titanio che tiene appunto le strutture dentali in posizione all'interno della bocca, puoi vedere esattamente quello che è il fit di precisione dei singoli denti. Qua abbiamo dei blocchi di 3, di 4 denti e li sto andando a posizionare sopra all'arcata che dovrà poi reggere sotto i carichi masticatori quella che è la dentatura artificiale. Il mio lavoro di posizionamento a questo punto è ultimato. I denti verranno fissati con un cemento definitivo e rimarrà che cosa? La base che regge i denti che potrà essere avvitata nella bocca del paziente. Questa è una delle lavorazioni più complesse che ci sono oggi al mondo perché parliamo di denti che sono completamente realizzati con il computer. La biomimetica, il biomimetismo delle gengive viene ottenuto con sapiente uso di quelle che sono le masse di colore, di composito, di materiale composito vetroso che servono proprio a simulare i tessuti gengivali perduti. Puoi vedere il livello di lucentezza che hanno questi denti ma se io ti mostrassi a ingranditore quella che è la precisione di texture di superficie rimarresti sbalordito da quanto è possibile oggi andare a simulare il biomimetismo con materiali artificiali in un organo perduto come quello della masticazione. Io sono il dottor Palmas e qui dal Dipartimento Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica di Chisinau ti saluto.